Milioni di italiani hanno serie o addirittura gravi difficoltà economiche e cercano in ogni modo di risparmiare. Milioni di italiani sono preoccupati per i loro figli, per i nipoti e vorrebbero fare qualcosa per lasciare loro un mondo il più possibile vivibile e confortevole. Milioni di italiani forse non sanno che si possono mettere assieme le due cose già oggi già da molti anni e cioè risparmiare selezionando dei fornitori che trattano bene l'ambiente e i lavoratori e offrono prodotti comunque di ottima qualità e lasciando quindi un pianeta appunto più vivibile per le future generazioni. Ora il tema è noto da anni e si è iniziato a parlare appunto anni fa con il termine inglese CSR, poi è diventato in italiano RSI che significa responsabilità sociale di impresa, dei paroloni che significano semplicemente rendere il più possibile trasparente il modo di lavorare di un'azienda in maniera da capire esattamente perché ha quel determinato prezzo, perché offre quel prodotto o servizio a quel determinato prezzo. Ora ad esempio quasi tutti voi avete un'automobile, moltissimi di voi hanno un'automobile e a quel punto dovete avere l'assicurazione in auto. Tutte le abitazioni usano l'elettricità, milioni di voi usano le banche e anche moltissimi di voi hanno servizi integrativi per il lato sanitario, medico, per le spese relative. Bene, sappiate che per tutte queste cose e per altre ci sono delle alternative di alta qualità ma che vi offrono un prezzo veramente molto conveniente. E io questo mi permetto di dirlo perché io le uso da anni, quindi non vi consiglio cose per sentito dire ma le utilizzo da anni e ovviamente ho approfondito come lavorano e come operano. Bene, io vi ho elencato queste realtà in questa pagina che vi mostro velocemente e pertanto se volete sia risparmiare sia appunto lasciare alle future generazioni un pianeta il più possibile vivibile, io vi esorto a confrontare queste realtà con quanto attualmente state acquistando.